Allora, questa mattinata faremo due segmenti legati allo storytelling, perché fare è anche, non solo saper fare, ma anche saper raccontare. E quindi proveremo a raccontare due storie, due storie legate all'innovazione, ma anche proprio al saper fare innovazione e poi saperle proporre queste modalità innovative attraverso le nuove tecnologie. Non sarò solo, perché in questo primo segmento invito con me Diego Mulfari, 29 anni da Besana Brianza. Dico bene, Diego, accomodati qui. 30 purtroppo. 30, 30, e il tempo scorre inesorabile, come il nostro tempo che sono già nove minuti. Allora, Diego, dovete sapere, forse avete letto la notizia, perché in realtà nel giorno in cui poi anche Stefania Emilia è diventata presidente e giovani imprenditori nazionali CNA, Riccardo Luna, su Repubblica, nella sua rubrica del sabato, ha raccontato la storia di Stefania e l'associata, quella di Diego Mulfari, in bianchino digitale. Perché Diego, in realtà, è un in bianchino 2.0. Ha preso, in qualche modo, il testimone dal papà. Esatto. Dici bene, dici bene. Diciamo, ciao Gian Paolo, grazie a tutti per l'invito a questo fantastico evento. Per me è un onore davvero essere qui. Per rispondere alla tua domanda, posso dirti che nel gennaio 2012, sia mio padre che io, ci siamo trovati in una fase molto critica dal punto di vista lavorativo. Mio padre, per una carenza di lavoro che lo stava quasi portando alla chiusura di attività, una ditta di imbiancature aperta da 30 anni. E io che mi trovavo in aziende chiuse al nuovo, in cui non riuscivo a valorizzare le mie competenze e creatività. Abbiamo dunque deciso di unire le nostre forze, di fondare un blog nel gennaio 2012. Questo blog si chiama mulfarimbianchino.com, attualmente abbiamo più di 80.000 visite dagli utenti del web e un'ottima conversione in termini di clienti acquisiti. Allora, in un'altra intervista di Lasciata Repubblica, Diego ha detto, abbiamo capito che in rete ogni giorno qualcuno cerca un imbianchino attraverso i motori di ricerca. Il nostro obiettivo ora è quello di farci trovare. Che tipo di cambio anche culturale avviene quando poi tu dal lavoro, diciamo, manuale, anche faticoso di imbiancare una casa, poi passi invece a declinarti sulle nuove tecnologie? Che tipo di conversione devi fare? Ma la conversione si diventa da imbianchini a consulenti, prima di tutto, nel senso che i clienti sono sempre più esigenti, sempre più preparati, ma sanno anche valorizzare le competenze professionistiche di valore, possiamo dire. Quindi sicuramente mettersi online ha un cambio di paradigma, ma con costanza, forza e perseveranza i risultati arrivano. Nell'intervento precedente c'è stato un accenno agli strumenti digitali, vi ricordate? Si è parlato di Pinterest, si è parlato di Twitter, di Facebook. Allora entriamo meglio negli strumenti che tu nella quotidianità utilizzi, oltre ovviamente agli strumenti del mestiere. Assolutamente, oltre al blog, come vi dicevo prima, utilizziamo anche appunto un sito web che è mulfarinbianchino.it, costruito con il famoso effetto wow, quindi un'architettura usabile, quindi contenuti fruibili, ma anche un template grafico accattivante per creare un'esperienza degli utenti di un certo tipo. Sicuramente siamo presenti sui principali social, quindi Facebook, Twitter, Google Plus e LinkedIn. Utilizziamo molto vivamente la fanpage Facebook, con post sponsorizzati che appunto ci permettono di raggiungere il nostro target di riferimento. Abbiamo anche un'applicazione per Android Market, denominata con un grandissimo sforzo di fantasia, AI in Bianchino. AI in Bianchino, quindi chi ha la connessione vada sull'App Store e scarichi AI in Bianchino. Esatto, oltre che una buona presenza sui principali forum, ad esempio Yahoo Answer, in cui noi rispondiamo a domande settoriali, quindi su edilizia in genere, piuttosto che proprio sul mondo della tinteggiatura e decorazione delle pareti, questo ci permette di avere un marketing mix, quindi una presenza a 360 gradi della nostra identità digitale, e farci trovare da chi ci sta cercando appunto. Allora, il nuovo in Bianchino digitale parla di marketing mix, come potete vedere in questo momento qui. Ti chiedo, questa potenzialità della rete, da una situazione di crisi, interrabrianzola su questo tipo di attività specifica, cosa ha concesso di fare? Che cosa è cambiato? Cioè il cliente poi in realtà lo si riesce a raggiungere anche grazie a questi strumenti digitali? Assolutamente, riusciamo a intercettare un mercato appunto che prima, con il vecchio passaparola offline sostanzialmente, non era intercettabile, quindi un mercato di clienti, come dicevo prima, sempre più preparati, ma che sanno valorizzare le competenze e i professionisti di valore. Se volete un aneddoto, circa sei mesi fa abbiamo trovato un cliente che è da Toronto, quindi Canada, cercava un bianchino per imbiancare la casa di Seregno, che è un paesino vicino a dove abito io, in provincia di Monzebrianza, quindi ricerca su Google, cercava appunto un bianchino di fiducia, trova la nostra fanpage, abbiamo una certa credibilità perché le referenze di clienti non mentono sostanzialmente, e abbiamo preso un lavoro da Toronto per tinteggiare poi in locale su Seregno, quindi direi un mercato che va tutto da scoprire. Allora, ultime due domande, una riguarda la famiglia, perché l'impresa è di famiglia e il papà è quello che in realtà l'ha aperta. Che cosa dice Papà Mulfari sulla tua anche attività online? Sicuramente Papà Mulfari, come molti papà e molti artigiani vecchio stampo, inizialmente era attitubante perché appunto quello che non si conosce si fa fatica a capire, piano piano è entrato anche lui nell'ottica, in un circolo virtuoso, ha capito come interagire con i clienti appunto del web 2.0, e adesso siamo un team sostanzialmente, siamo una forza. Siamo una forza. Allora, ultima domanda nel nostro segmento storytelling riguarda il tweet che ha lanciato Luca Iaiai. Allora, in un tweet ti chiedo un consiglio a chi magari da un mestiere tradizionale del saper fare vuole passare invece ad un'attività del saper raccontare. Qual è il tuo consiglio personale? Il mio consiglio è non pensare di creare un nuovo servizio, un nuovo prodotto, ma sicuramente poter innovare sul processo. Quindi innovazione a livello di processo, utilizzare molto internet e la rete è costanza, sempre costanza. Grazie Diego Mulfari, a te Luca.